Totale sintonia al Festival del Cinema di Venezia su Leone d'Oro assegnato al regista russo Alexander Sakurov. La 68esima edizione della Mostra del Cinema si è conclusa con un bilancio positivo di pubblica e critica. Il film vincitore Fausto, ispirato a Goethe, dove si esplora la corruzione del potere, è stato definito opera monumentale di qualità indiscussa. Sulle tracce della tradizione russa legata a Tarkovsky, Sakurov si conferma come il regista più originale e indipendente del momento. Il miglior attore maschile è il tedesco naturalizzato e orlandese Michael Fassbinder, che ha conquistato la Coppa Volpi. Fassbinder, ringraziando per il riconoscimento arrivato per la sua interpretazione del film Shame, Vergogna, ha definito il regista Steve McQueen un eroe. Soddisfazione anche per il cinema italiano, che con Emanuele Crialese si è giudicato il premio speciale della giuria. Il suo commovente terraferma, incentrato su immigrazione e accoglienza, ha raccolto un riconoscimento ambito. Grazie. No, no grazie.